Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. I diversamente abili che usufruiscono del servizio trasporto a Modica sono sul piede di guerra, denunciano i mezzi patiscenti, arrugginiti e con buchi sul tetto. Una signora si è anche ferita ad una gamba scendendo dalla scaletta rotta. Il comune di Modica è stato escluso dai fondi dell'assessorato regionale alle infrastrutture perché non ha partecipato al bando dell'aprile del 2015 per i centri storici. I soldi che arriveranno al comune di Modica sono rivolti ad altri progetti. I consiglieri comunali della quarta municipalità del comune di Catania hanno chiesto l'intervento dell'amministrazione comunale per le condizioni di degrado in cui verse il cimitero di San Giovanni Galermo la mente le raccolte dall'assessorato competente. Oggi la Polizia di Stato festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo, Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Ragusa, Monsignore Carmelo Cuttitta, nell'omonima chiesa, tante le istituzioni civili e militari che hanno preso parte alla celebrazione. Buon pomeriggio telespettatori di MTG, bentrovati al primo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo. In apertura vi raccontiamo la storia della signora Rosanna Saraceno, rimasta vittima di un piccolo, per fortuna, incidente mentre scendeva dal pulmino che trasportava i diversamente abili nei vari centri di riabilitazione a Modica. I mezzi con cui si provvede al trasporto sono ormai obsoleti. Anche le mamme dei bambini, diversamente abili, hanno organizzato una petizione, insomma una situazione che si trascina da un po' ma che adesso è precipitata. Gli utenti chiedono dunque spiegazioni all'assessorato comunale, ai servizi sociali. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio di Marco Scavino. Pezzi di trasporto obsoleti, arrugginiti e contetti ridotti a colabrodo. È la denuncia che arriva da Rosanna Saraceno, affetta da sclerosi multipla, che due volte a settimana si rega al CSR di Modica per la riabilitazione. La donna, inoltre, qualche giorno fa, scendendo dalla scaletta del pulmino che è arrugginita, si è ferita ad una gamba. I medici del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica le hanno dato una prognosi di cinque giorni. Adesso lei sta valutando di intraprendere le vie legali. Il comune di Modica è il responsabile del trasporto dei diversamente abili presso queste strutture. Il servizio, tuttavia, è stato dato in appalto ad un'azienda privata di bagheria che ha partecipato al bando di gara e l'ha vinto. Una situazione è quella dei disservizi che vengono riscontrati dagli utenti, già sollevate in passato dagli stessi ai servizi sociali. Ma ad oggi la situazione pare essere precipitata. Sono tante, infatti, le mamme dei bambini che usufruiscono del servizio che hanno scelto di avviare una petizione per manifestare il loro malcontento. Oggi la signora Saraceno si è rivolta alla nostra redazione per raccontare quanto le è accaduto. Non è un pulmine idoneo. Il servizio è diversamente abile. La pedala non funziona, l'assistente è tanto gentile, ti aiuta. Però quanto può essere gentile? Se il mezzo è tutto arrugginito, non è idoneo. Se piove, oltretutto, entra anche l'acqua dentro il pulmino. Dove siamo? Neanche gli animali vengono trasportati in questa maniera, scusate. Più volte l'autista e l'assistente hanno segnalato questo problema. Ora, la scorsa settimana, già la pedana, mesi addietro, la pedana la dovevano uscire manualmente. Adesso invece neanche manualmente. Adesso c'è tutta la parte arrugginita che io la scorsa settimana mi sono infortunata e ho avuto cinque giorni di prognosi. Io ho già i miei problemi, perché mi devo comportare altri problemi per il disservizio o per gli altri che se ne fregano? Perché questo è fregarsene. Intanto l'assessorato ai servizi sociali del comune di Modica, contattato da noi telefonicamente, ha garantito di aver già richiesto all'azienda di Bagaria un altro mezzo di trasporto, in quanto si sono registrati anche numerosi ritardi. Inoltre, il titolare dell'azienda è stato più volte convocato da Palazzo San Domenico. Ma ad oggi ancora nessuna risposta è arrivata agli utenti. E' pronto il piano per garantire i fondi a sostegno degli studenti disabili. Ad annunciarlo la senatrice Padua dopo un colloquio telefonico avuto con gli assessori regionali Baccei e Marziano. Intanto Ragusa è tutto pronto per la grande mobilitazione che si terrà domani pomeriggio. Erogare i fondi necessari per il trasporto è l'assistenza degli studenti disabili degli istituti superiori nell'assestamento di bilancio che la Regione effettuerà in questi giorni. Misura transitoria necessaria per sopperire all'attuale emergenza. E' questa una delle soluzioni lanciate dalla senatrice del PD Venera Padua dopo un colloquio telefonico con gli assessori regionali Baccei e Marziano. I due amministratori hanno infatti garantito che è pronto il piano per garantire i fondi a sostegno degli studenti disabili che hanno il diritto allo studio così come sancito anche dalla Costituzione. L'altra misura individuata è di carattere strutturale, ossia definire i fondi sempre a Palermo da inserire nel bilancio 2017 e che assicureranno il servizio per tutto il prossimo anno. Tra l'altro è ancora aperto un bando presso l'assessorato all'istruzione e formazione con somme rese disponibili dalla Regione a cui possono accedere i genitori degli studenti disabili per ottenere, inoltrando richiesta al Commissario del Libero Consorzio Comunale o ai Sindaci, le risorse economiche necessarie al rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto. Attualmente, ribadisce la Padua, sono questi gli strumenti a disposizione. Intanto i familiari degli studenti, le associazioni e il forum terzo settore si stanno preparando per la grande mobilitazione prevista per domani pomeriggio a Ragusa. L'ANFAS in una nota parla di situazione paradossale e platealmente illecita rispetto alle leggi italiane al disposto della Convenzione Internazionale delle persone con disabilità e dalla dignità stessa. Nessun conforto si evidenzia nel documento neanche rispetto al recente riparto di risorse erogata dalla Regione agli enti locali che hanno assegnato cifre così esigue da non poter soddisfare l'erogazione dei servizi per qualche mese se non addirittura per qualche giorno, non garantendo alcuna continuità scolastica. È stato confermato il provvedimento di espulsione del cittadino indiano di 43 anni accusato del tentato rapimento di una bambina nel lungomare di Scoglitti lo scorso 16 agosto. Il caso in questione portò il Ministro della Giustizia Andrea Orlando a inviare gli ispettori per verificare l'iter seguito dalla Procura Iblea. Il giudice di pace del Tribunale di Ragusa ha respinto il ricorso presentato dal legale e dell'indiano, scusate, Biaggio Giudice, che puntava ad annullare il provvedimento di espulsione. E adesso parliamo dei 6 milioni di euro che arriveranno alla città di Modica. Questi fondi del Patto per la Sicilia non hanno niente a che fare con i finanziamenti predisposti dall'assessorato regionale alle infrastrutture e comunicati dall'onorevole Orazio Ragusa. Su questa vicenda, infatti, c'è un po' di confusione. I finanziamenti di cui parla l'onorevole Ragusa e quelli di cui parla il sindaco Abbate sono rivolti ad interventi completamente diversi. In questi giorni si è sollevato un polverone mediatico per quanto concerne i finanziamenti previsti nel Patto per la Sicilia e indirizzati alla provincia di Ragusa. Ebbene, è meglio fare chiarezza sui 6 milioni di euro circa in arrivo alla città di Modica. Andiamo con ordine. Lo scorso 24 settembre il deputato regionale dell'Udc Orazio Ragusa aveva divulgato, con una nota stampa, l'arrivo di 7,2 milioni di euro fondi dell'assessorato regionale alle infrastrutture per la provincia Iblea. Questi soldi servono esclusivamente per interventi di consolidamento in edifici di interesse ricadenti nel centro storico. Tra i comuni che beneficeranno di questi soldi manca l'appello quello di Modica. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ieri divulga un comunicato stampa scrivendo Patto per la Sicilia, quasi 6 milioni in arrivo per Modica. Altro che esclusa, Modica è una delle città che riceverà più fondi dal Patto per la Sicilia. L'arrivo dei soldi ad Abbate viene comunicato dal presidente della regione Rosario Crocetta. E' qui cascalasino, perché il sindaco Abbate non ha precisato nella sua nota stampa che i finanziamenti in arrivo non sono gli stessi di cui parlava l'onorevole Orazio Ragusa, ma sono soldi che serviranno solo ed esclusivamente alla riqualificazione e messa in sicurezza delle strade dell'agglomerato industriale di Modica ed ancora per la pubblica illuminazione e per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade. Dunque non sono i finanziamenti destinati invece al consolidamento di edifici di interesse ricadenti nel centro storico di cui invece parlava l'onorevole Ragusa. Il comune di Modica dunque è stato escluso e come? Perché non ha partecipato al bando pubblico di gara emanato il 16 aprile del 2015 per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della regione siciliana. E' firmato dal dirigente generale Fulvio Bellomo. Dunque sono due cose distinte e separate. I soldi che arriveranno alla città di Modica non sono quelli di cui parlava l'onorevole Ragusa. E dunque la città di Modica è stata esclusa dai finanziamenti dei fondi dell'assessorato regionale alle infrastrutture che, ribadiamo, sono rivolti solo ed esclusivamente al consolidamento degli edifici di interesse ricadenti nei centri storici. I 6 milioni di euro invece che arriveranno a Modica e di cui ha parlato il sindaco Abbate sono solo ed esclusivamente soldi del patto per la Sicilia, ma che saranno destinati a progetti cantierabili per riqualificare le strade e la pubblica illuminazione e non dunque gli edifici del centro storico, al cui bando, ricordiamo ancora una volta, il comune di Modica non ha partecipato nell'aprile del 2015. La Giunta regionale si è impegnata a stanziare 20 milioni e mezzo di euro per interventi di messa in sicurezza del porto di Pozzallo, ad annunciarlo il deputato regionale Orazio Ragusa, che ha seguito l'iter con particolare attenzione. Tale somma servirà alla definizione dell'imboccatura portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini commerciali e turistici, un intervento che si attivirà al rilancio dell'importante infrastruttura. Ragusa sottolinea in una nota che queste risorse economiche faranno parte degli interventi programmati nel contesto del POC, Programmo Operativo Complementare 2014-2020. Il sindaco di Acate, Franco Raffo, resta in carica. Non passa infatti la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione. Otto i voti a favore, due i contrari. I consiglieri di minoranza non riescono quindi a raggiungere il quorum previsto dall'ordinamento degli enti locali necessario per sfiduciare il primo cittadino. In aula ieri sera erano presenti solo dieci consiglieri, tra cui Gallo e Terno, a rappresentare la maggioranza. Franco Raffo resta dunque in carica e ha annunciato un comizio per domenica prossima nel corso del quale racconterà la sua verità ai cittadini. E passiamo adesso al Consiglio Comunale di Modica che si è riunito ieri sera. E Ivana Castello è il nuovo capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Modica. L'ufficialità è avvenuta ieri sera in Consiglio Comunale. La Castello succede a Carmelo Cerruto. La Civi Cassisi ha poi bocciato con nove voti favorevoli e nove astenuti la mozione presentata dal gruppo del PD sulla riqualificazione dei parchi gioco. Di conseguenza, subito dopo la votazione, i consiglieri dell'opposizione hanno lasciato l'aula facendo mancare il numero legale, mentre il punto sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene approvato con dieci voti favorevoli, un contrario e un astenuto. Ad inizio dei lavori prende la parola il Presidente Garaffa che ha comunicato che il prossimo 7 ottobre sarà convocato un Consiglio Comunale per discutere sulla relazione della Corte dei Conti inviata al Sindaco ed un altro Consiglio con all'ordine del giorno l'adesione al gruppo di azione costiera. Si ritorna a parlare in Consiglio poi di due fascicoli relativi al bivio di Contrada Serrapero dove è stata realizzata una rotatoria e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Due fascicoli che ad oggi è stato detto in aula non sono a disposizione dei consiglieri comunali. Il Presidente Garaffa su questi due punti ha risposto che i fascicoli sono stati depositati, invitando il Secretario Generale a darne notizia, mentre l'Assessore all'Urbanistica ha detto che i fascicoli sono a disposizione dei consiglieri comunali negli uffici competenti. Prende poi la parola la consigliera Castello che evidenzia come non è stato possibile recuperare un atto del 2013, evidenziando come il Comune di Modica ha perso dieci anni di documentazione e nonostante però ci siano le carte nei fascicoli non si sa dove sono. Il Consiglio si è poi dedicato alla question time con un'interrogazione del PD sul PRG, in quanto non c'è di fatto una programmazione del territorio. L'Assessore Belluardo su questo punto ribadisce che tutta la procedura è stata seguita. Altra interrogazione presentata da Spadaro riguarda il parcheggio su un terreno già scerbato vicino la chiesa di Santa Maria del Gesù a Modica Alta, utile per il servizio sia della scuola sia per turisti. L'amministrazione per questo ha chiesto alla sovrintendenza la possibilità di avere un affidamento del sito che è stato concesso e si sta studiando il modo per renderlo fruibile attraverso un progetto. Interviene poi il Consigliere D'Antona che ha sollecitato l'Assessore Belluardo a rispondere a due interrogazioni, una presentata nel novembre del 2015 e l'altra all'agosto scorso, invitando il Presidente Garaffa di informare l'assessorato agli enti locali per quanto accaduto, chiedendo anche un'ispezione di merito. Belluardo dichiarato che entro oggi avrebbe consegnato le risposte alle interrogazioni. E' stato rinviato di un mese allo sfratto per morosità della famiglia Scardino di Santa Croce e Camerina. L'ufficiale giudiziario questa mattina ha dato un altro mese di tempo per trovare una soluzione. Coniugi Scardino, entrambi disoccupati da circa un anno, non riescono a pagare l'affitto dell'appartamento in via De Mille a Santa Croce e Camerina. Presenti oggi anche i Forconi che sono intervenuti per opporsi allo sfratto. Mariano Ferro e Angelo Giacchi non gridano vittoria ma mettono in luce un problema che ne rappresenta tantissimi. Questo è un esempio di povertà assoluta di cui nessuno si fa carico. Chiediamo al Governo, aggiunge Ferro, di fermare questo suicidio collettivo e di intervenire con proposte adeguate. Situazione vissuta in prima persona anche da Giacchi che martedì scorso è riuscita ad opporsi al cambiamento forzoso della serratura della propria abitazione a Scoglitti. L'imprenditore agricolo giorno 6 ottobre si vedrà messi all'asta i capannoni. Un appartamento e un terreno per un debito contratto con le banche. Andiamo a Catania, seduta itinerante quella di questa mattina dei consiglieri della quarta municipalità che da tempo chiedono l'intervento dell'amministrazione per sottoporre le difficili condizioni in cui versa il cimitero di San Giovanni Galermo. Rischi allagamenti quando piove, loculi scoperti e barce alte, fontanelle rotte, liquami che fuoriescono. Fili della corrente elettrica lasciati liberi con la conseguenza che quando si usa il decespugliatore essi vengono tranciati lasciando il cimitero al buio. Sono questi alcuni dei problemi che vengono denunciati dai consiglieri della quarta municipalità di Catania in relazione alla Camposanto di San Giovanni Galermo, consiglieri che da tempo chiedono l'intervento all'amministrazione comunale. A causa dei fili che fuoriescono viene anche fatta una pulizia non ottimale quindi bisogna ripristinare immediatamente l'impianto elettrico. Anche la situazione idrica non è da meno, il malfunzionamento dei bagni ma fino ad arrivare anche al discorso dell'allargamento del cimitero. Il cimitero è in uno stato di abbandono perché ci sono le fontane rotte. Sono detto che quando piove diventa ancora più difficoltoso poter passare per arrivare alla tomba. Sì certo perché forse non c'è canale per l'acqua, per scivolare e quindi dobbiamo camminare sull'acqua. L'amministrazione e la persona e l'assessore ai servizi cimiteriali Sarodagata stamattina ha effettuato un non sovralluogo rispondendo alle sollecitazioni dei consiglieri e garantendo interventi immediati. Da qui partire per gli interventi da effettuare con una certa sollecitudine per rendere ancora come dire più vivibile quest'area cimiteriale che è un'area cimiteriale tutto sommato da salvaguardare. Assessore la visita di questa mattina pone l'accento su una questione ben più ampia ossia l'attenzione all'amministrazione verso le periferie. Spesso i consiglieri di quartiere che sono poi l'anello di congiunzione dicono che l'amministrazione è poco presente nelle periferie. Come rispondiamo? Io personalmente ma mi risulta anche tutti i miei colleghi ogni volta veniamo sollecitati interveniamo. Per quanto riguarda il cimitero di San Giovanni di Galermo è stato attenzionato. Restiamo sempre a Catania dopo l'elementele dei genitori e degli alunni della scuola materna Vittorino da Feltra a Montepò. Lamentate le lamentele a causa dell'erba alta, degli animali e delle scarse condizioni di igiene nella parte esterna della scuola. Oggi abbiamo chiesto al sindaco di dare una risposta sui tempi di intervento e se soprattutto questo intervento verrà fatto. Ancora una volta sarà Don Giuse. L'appello lo hanno lanciato ai nostri microfoni sia i genitori degli alunni della scuola materna Vittorino da Feltra appoggiati al consigliere di quartiere Mascali che la dirigente dell'istituto. Serve un intervento urgente per eliminare tutte le erbacce del plesso di via Vigo nonché una disinfestazione urgente. Questo appello lo abbiamo girato questa mattina al sindaco che così ci ha risposto. Naturalmente hanno diritto queste persone ad avere un posto pulito e tranquillo. In questi giorni per esempio con le manutenzioni ho dato priorità alla sicurezza. Certamente mi occuperò anche dell'erba alta perché è giusto che sia così fissando le priorità e tenendo conto che ho una bacchetta magica ma anche la bacchetta magica non risolve immediatamente tutti i problemi della città. Blitz dei Carabinieri alle prime luci dell'alba di oggi che ha portato alla denuncia a piede libero di due albanesi per ricettazione entrambi incensurati e trovati in possesso di refurtiva varia per un valore complessivo di circa 10.000 euro nascosta all'interno della loro abitazione a Scicli. Tra la refurtiva i militari hanno rinvenuto numerosi elettrodomestici, un frigorifero, due forni, una lavatrice, alcuni televisioni e le cd, pc portativi, diverse attrezzature da lavoro come motozappe, trapani e decespugliatori. Tutta la refurtiva è stata sequestrata, intanto i carabinieri stanno lavorando per risalire alle vittime dei furti e già questa mattina parte della refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. È stato trovato questa mattina in contrada Canna Melito a Comiso, un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare durante lavori di sbancamento terra nel proprio appezzamento agricolo. Un 53enne ha recuperato un proiettile di mortaio, ha immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri che giunti sul posto hanno circolscritto con nastro segnaletico l'area interessata che presidiranno fine alle operazioni di brillamento e bonifica previste nei prossimi giorni. Andiamo a Comiso, torniamo a parlare del rinnovo dei vertici della Suaco, la società che gestisce l'aeroporto di Comiso. Oggi pomeriggio si profila un ulteriore rinvio della riunione, prima infatti si dovrà attendere l'elezione del nuovo amministratore delegato della SAC che succederà ad Ornella Laneri. Sentiamo. Anche oggi inevitabile nulla di fatto per la riunione convocata per rinnovare i vertici della Suaco, società che gestisce l'aeroporto di Comiso. Prima sarà necessario che si chiariscano le vicende interne alla SAC, società che gestisce Fontana Rossa a Catania e che vanta una quota di maggioranza nella Suaco, il 65%, dopo la vicenda dell'amministratore delegato Ornella Laneri, revocata per mancanza dei requisiti. Per quanto riguarda la quota pubblica di Suaco, il 35%, appartiene al comune di Comiso che per mezzo del suo sindaco potrà nominare uno consigliere e il presidente della società di gestione. Ed è proprio su questa figura che si concentra l'attenzione. Rosario Alessio, ex presidente Crias ed ex presidente Asi. Giovanni Occhipinti, vicepresidente di Federalberghi Ragusa. L'ex deputato Salvo Zago, 66 anni, già sindaco di Comiso. Roberto Biscotto, fondatore del consorzio Multifidi. Questi i nomi dei papabili. Al momento sono solo frutto di rumors non confermati. Per quanto riguarda invece l'amministratore delegato, l'unica indiscrezione riguarda Giorgio Cappello di Confindustria. Il vincitore rispetto a questa vicenda rimane comunque Giuseppe Giannone, presidente della Camera di Commercio di Ragusa. Come amministratore delegato della SAC si torna a parlare di Nico Torrisi, proposta fatta proprio dal ragusano e poi bocciata. Avere Nico Torrisi ad amministratore delegato e siamo stati esclusi completamente, non è stato preso in considerazione e sono rimasto solo contro sette. Uno a sette. Ora sette e uno otto faranno la proposta che ho fatto io. Questo sembra che succederà. Giannone si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Ho votato contro perché io ho fatto una proposta e loro hanno votato contro la mia. Perché io sono in carica democraticamente. Io sono stato eletto secondo le regole che disciplinano l'essere socio. Il socio è la Camera di Commercio il cui consiglio elegge un presidente e questo presidente è in carica. Le altre Camere di Commercio non sono così, sono commissariati. Sono commissariati, nemmeno nominate. Rieccoci nuovamente in studio. Stagione estiva 2016 negativa per i commercianti del Centro Storico di Ragusa e Superiore nonostante l'aumento delle presenze turistiche in provincia. Il bilancio dell'ASCOM che ieri ha anche snocciolato i numeri scelte superficiali e poco lungimiranti. Queste le accuse lanciate dai vertici dell'ASCOM nei confronti dell'amministrazione di Palazzo dell'Aquila. Crollo delle vendite nel Centro Storico di Ragusa Superiore, circa il 10-15% in meno, nonostante l'aumento delle presenze turistiche di circa il 20%. L'estate 2016 è stata un disastro per i commercianti della zona, a tracciare il bilancio l'ASCOM. Situazioni non favorevoli che sarebbero frutto della mancata concertazione tra l'amministrazione e l'Associazione dei Commercianti. Sono il presidente dell'Associazione Cittadina, Salvo Ingallinera, e Giovanni Cassarino, componente del direttivo, a lanciare accuse contro l'amministrazione di Palazzo dell'Aquila. Le attività economiche del Centro di Ragusa non sono riuscite a cogliere in pieno l'aumento delle presenze dei turisti, che hanno preferito recarsi ad Ibla e a Marina di Ragusa. I due hanno snocciolato i dati relativi alle vendite dell'estate appena conclusa. Nel Centro Storico i commercianti hanno registrato, ha dichiarato in Gallinera, un decremento delle vendite a causa della diminuzione delle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si parla anche delle criticità registrate, dal proliferare di episodi criminosi nel quadrilatero, compreso tra Piazza Matteotti, Via Marioleggio, Via Sant'Anne e Via Giambattisto Dierna, episodi favoriti anche da una illuminazione inadeguata e ancora la mancanza di bagni pubblici, mentre le iniziative turistiche come spettacoli e manifestazioni sono state scarse e non coordinate. In controtendenza, Ibla. In Gallinera afferma che si è registrato un incremento delle presenze turistiche, pare al 18%, con andamento generale delle vendite in crescita. E adesso parliamo della festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, oggi celebrata nell'omonima chiesetta a Ragusa. È stata celebrata oggi a Ragusa dalla Polizia di Stato la ricorrenza di San Michele Arcangelo. Il nemico di Satana, così come è ricordato negli scritti, è il patrono della Polizia di Stato che ogni anno non si sottrae dal ricordarlo e celebrarlo. Oggi agenti e dirigenti della Polizia di Stato si sono riuniti per celebrare il patrono nell'omonima chiesa. Presente anche una delegazione dei cavalieri templari. A celebrare la messa il vescovo della diocesi di Ragusa, Monsignor Carmelo Cuttitta. L'Arcangelo Michele è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro gli inviati e incaricati di Satana. Michele infatti è ricordato e menzionato come comandante delle milizie celesti. Dapprima, accanto a Lucifero, nel rappresentare la coppia angelica, si è separato poi da Satana e dagli angeli che operarono per l'ascissione da Dio. Alla Santa Messa era presente, tra gli altri, il questore di Ragusa, Giuseppe Gammino. La nostra festa è religiosa e esprime questo momento di attenzione per il nostro patrono, ma è anche una festa che raccoglie le famiglie nel Family Day. Sono felice, dicevo, di essere qua perché questa realtà è viva, è pulsante per tutte le forze dell'ordine. Siamo coesi, siamo fra di noi abbastanza legati e lo dimostrano anche queste presenze che vengono confermate ogni anno di attenzione da parte degli invitati. Quindi una buona festa, una buona festa al personale della Polizia di Stato, alle famiglie e un grazie a tutti gli amici, colleghi e quant'altro che sono qui a onorarci con la loro presenza. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, concludiamo qui questa edizione di MTG. Ritorniamo alle 19.45, studio Marco Scavino. Grazie ancora e buon pomeriggio. Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. Grazie a tutti.